Grazie a tutti. I tre obiettivi principali della riforma, l'istituzione di un sistema giuridico chiaro e uniforme per determinare la Corte competente e la legge applicabile, la libertà di scelta tra le parti e la facilitazione del riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Ritengo particolarmente soddisfacente il compromesso raggiunto in merito alla libertà di scelta della legge applicabile da parte delle coppie registrate. La soluzione trovata è infatti rispettosa delle traduzioni culturali e giuridiche degli Stati membri e permette di sbloccare un difficile stallo politico sulla questione. Da ultimo concordo con la relatrice sul fatto che sia ancora prematuro abolire l'ex equator. Questo regolamento attiene infatti ad un istituto giuridico ancora estremamente eterogeneo tra gli Stati membri, introduce novità sostanziali e bisognerà aspettare che si stabilizzi nel tempo. Grazie.